NAMASTE, sono i Star Brave, bentornati ad un altro episodio di Darkest Dungeon, oggi un episodio breve 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 breve, ma siamo in una missione media come potete vedere a veterano Ogni tanto vi mostro anche un po' le provviste che faccio per portarmi, cosa mi porto dietro, effettivamente vi porto uno stack intero di quasi tutto Poi a seconda di dove sono esattamente succede qualcosa di diverso, siamo nella Baia in una missione che durerà pochissimo probabilmente E vi dico probabilmente ma in realtà lo so perché sto registrando l'audio in post-produzione come ben sapete o in semi post-produzione o in blast processing chiamiamolo così Grazie narratore come al solito e siamo con un party in cui Eiffel 65 è di nuovo a capo con Lita, con Georgie e con credo sia Iato quello lì o è qualcuno di nuovo? Non mi ricordo esattamente ma lo scopriremo a breve quando avremo il primo combattimento, dobbiamo trovare le reliquie e appunto recuperarcele Quindi dovrebbe essere una missione facile facile, vediamo subito di esplorare, vediamo se siamo così fortunati da trovarle subito queste reliquie In modo insomma che possiamo continuare a fare esperienza con questo gruppo perché ci serve gente decente da portare poi nelle ultime missioni Dopo aver fatto le prime due missioni del finale insomma adesso mi prendo un po' di tempo per prepararle Abbiamo già la prima cassa, la reliquie dell'antenato che prendiamo tranquillamente e abbiamo un sacco di spazio Perché non mi sono portato via tanta roba in saccoccia e direi allora che possiamo continuare pure tranquillamente Non abbiamo, beh sono molto ben equipaggiato quindi speriamo di trovare magari la mappa con l'esplorazione Se no non è tanto un problema, abbiamo un sacco di questi reliti da tirare giù quindi man mano che andiamo avanti nel gioco ce ne sono sempre di più Devo portarmi un casino di vanghe dietro per poter scavare Entriamo nella seconda stanza Ancora niente combattimenti, abbiamo addirittura l'esplorazione quindi nel momento giusto Quindi vuol dire che capiamo dove andare, possiamo decidere di andare verso destra ma non c'è niente di interessante Possiamo andare, qua c'è un reperto, beh intanto possiamo andare in giù Dobbiamo capire cosa c'è del resto, 80, 80, 80 e 80 quindi è indifferente che uso, quindi usiamo a questo punto Eiffel Quella la potevo anche, potevo anche interagirci ma anche no Abbiamo il nostro primo combattimento contro lo schiavo pestanto che è quello da uccidere subito Con Hayato che comincia a fare vomitino direi sui nostri avversari Vediamo un po' se riusciamo a infliggere abbastanza danno insomma da potercela scampare abbastanza velocemente Il nemico ovviamente più tosto di questi non sono i support ma è appunto il baluardo che sta là in mezzo Quello con gli orecchini che sembra venuto fuori dal rototone sun splash con gli orecchini appunto giganti Questo deve sempre stare attento, fa un casino di danno ogni volta se non riesco a ucciderlo subito Ma adesso dovrei riuscire a fare un bel colpo per portarmelo via, ottimo Tra l'altro non ha anche cadavere quindi vuol dire che adesso sono tutti quanti shiftati Vediamo di fare una cura da due Una delle cure peggiori che abbiamo mai visto ma va bene lo stesso Barriera crostazia sullo sciamano che comunque morirà tra poco Direi di continuare a sparare col vomitino che fa sempre comodo In questo caso ho colpito i primi due perché gli altri sono da altre parti Andiamo di... Get over here Ho fatto due danni e l'ho portato da me Quindi l'oracolo muore in automatico al prossimo turno Adesso vediamo gli altri Tu hai dieci danni Facciamo ancora un pochino di bomboletta puzzolenta Ti becchi quindici danni quindi vuol dire che ti manca un turno solo L'altro è già morto quindi semplicemente se riusciamo a fargli quindici danni non ce la faremo mai Ma almeno gli possiamo fare un bel po' come potete vedere E adesso abbiamo l'octocesto che mi fa tre danni a me E ce l'abbiamo fatta tranquillamente Adesso basta fare anche una cura automatica O comunque quelli che sono morenti possono farsi la cura tra di loro In modo che possiamo portare sull'energia, tenerla bella alta Come vedete quasi tutti Una cura da zero Giusto che dicevo Non ho mai fatto una cura peggiore di questa E poi becco quella da zero Giustamente Vediamo di prendere su tutto il possibile Facciamo uno scambio Magari ci portiamo dietro quello No, non mi interessa Tiriamolo via e andiamo pure avanti Cerchiamo di capire dove cavolo andare Allora, c'è una stanza con reperto Ruperto, qua c'è il logo missione E là c'è il logo missione Ok, quindi sono automaticamente a posto Direi che possiamo fare una bella corsa Velocissimo per finire la missione nel più breve tempo possibile Con un solo combattimento E qua sfruttiamo al massimo il fatto che L'esperienza la facciamo a seconda di quanti dungeon facciamo A seconda di quanti combattimenti Quindi possiamo tranquillamente andarcene alla fine E fare un episodio lampo oggi Se ce la facciamo in modo che possiamo portare su Un po' di esperienza Quindi ci prendiamo la nostra reliquia Andiamo a mettere a posto della torcia E facciamo anche un giretto da questa parte In modo da prendere l'altra reliquia E andarcene tranquillamente a casa Con la vittoria in tasca Belli, belli, zitti, zitti Cacchi, cacchi Tranquilli, tranquilli Torniamo pure al borgo direttamente Pertanto l'esperienza l'abbiamo fatta Potrevo stare qua un sacco di tempo A recuperare l'esperienza Ma ho deciso di tornare a casa per oggi Comunque abbiamo recuperato un bel po' di roba Abbiamo un livello 6 in Aiato e in Oro E abbiamo un livello 5 per gli altri Quindi sono molto contento di questo Vediamo di tornare a sto punto al villaggio In modo che siamo belli belli e tranquilli In modo che possiamo vederci domani Se vi è piaciuto mettete pure un bel mi piace Ci vediamo domani con un altro episodio Io sono East Brave Damaste Be brave A presto Bisogna